amici ben ritrovati per una nuova avventura con Sergio e papà Sergio che cosa hai oggi? questo monster truck ha un regalo ok abbiamo ricevuto un regalo anzi approfittiamo anche per dare salute a nonna e ringraziare questi regali punto ragazzi amici se qualcuno ci vuole regalare zii pure se qualcuno ci vuole regalare qualcosa è molto gradita va molto bene allora vediamo che cosa abbiamo abbiamo questo monster truck hot wheels giallo con delle ruote enormi papà e papà dietro c'è l'intera collezione no si guardate quanti ce ne sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 è possibile collezionarli tutte e 8 noi abbiamo quello giallo bellissimo Sergio procediamo con l'apertura vediamo come funziona dai ce la fai? si che ce la fa si che ce la fa Sergio bravo eh parte 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 via come ti piace aprire i giochi papà come ti piace eh? non ti piace? si questo lo conserviamo ah ottimo direi che cos'è? che è uccita? una macchinina di gomma bellissimo una macchinina gommosa secondo me questa serve per saltarci sopra guarda si muovono anche le gomme vediamo fa vedere guardate è bellissimo c'è anche l'alettone dietro ragazzi c'è anche l'alettone dietro guarda per prendere velocità è pieno guarda che ruote giganti che ha enorme tutte quante snodabili adesso amici vi facciamo vedere come funziona è vero Sergio? facciamo una gara? si facciamo una gara vediamo come funziona amici eccolo qua guardate è tutto quanto snodabile guardate come si arrambica è snodabile è indistruttibile soprattutto guardate guardate che ammortizzatori che ha una cosa incredibile doppie ruote sterzanti doppie ruote sterzanti papà guarda dai papà guarda che divertimento che divertimento guarda qua guarda come si arrambica sopra i cosciotti di Sergio guarda come si arrambica è un'alettone cioè questa macchina praticamente la distruggiamo completamente guarda guardate con queste ruote queste ruote giganti la schiacciamo vai via guardalo qua guardalo qua è prontissimo guarda c'è un personaggio qui che personaggio c'è? non lo so chi è quello? non lo so chi è? che personaggio è? come si chiama? non lo so come si chiama? Spongebob Spongebob ah quindi questo è il mostro e il tracco di Spongebob è il mostro e il tracco di Spongebob è giusto ci siamo arrivati bellissimo comunque va è troppo bello è troppo bello aspetta 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 è troppo bello ma davanti quanto è bello questo questo mostro track di Spongebob allora amici se vi è piaciuto se vi è piaciuto guardate aspetta 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 riesce a salire anche qua sopra aspetta 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 è bellissimo comunque questo mostro è indistruttibile guardate questa macchina come la stiamo combinando guardate bellissimo bellissimo guarda qua poi si può distruggere perché è bella è bella commosa si questa macchina mettila di nuovo mettila di nuovo qua fammi fare l'ultima arrambicata mettila di nuovo guardate 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 e poi se si possono giocare si può distruggere questa si può distruggere tutte le volte che si vuole si si guarda il fatto che non si distrugge perché è proprio di gomma ed è un ottimo antistress anche giusto 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 puoi mangiare la mia fracottina ottima ottima allora papà tieni tieni questo qua mettilo qua amici allora se vi è piaciuto il video comunque a noi è piaciuto tantissimo questo mostretrack è bellissimo quindi a noi è piaciuto tantissimo se vi è piaciuto pure a voi il video pollicione e la cosa più importante iscrivervi al canale così non vi perdete nessuna avventura di Sergio e papà ciao a tutti